Episodio numero 6, forza ce lo guardiamo insieme, sigla! Potentissima, potentissima, ragazzi, vediamo insieme il sesto episodio, insieme! Meatcloth Cronology, Giovanni è con noi, eccolo qua! Buonasera, ma come devo fare? Ti devo assegnare, dai, le paginine come quando si faceva a scuola, scrivi dieci volte Meatcloth Cronology! NGL! Ciao, ciao a tutti, ci vuole un corso di edizione per lì! Che arriverà, eccolo qui, buonasera! E poi l'ho fatto pure! L'ho fatto pure il corso di edizione, recitazione, doppiaggio, porca miseria, tutti i soldi buttati! Allora ragazzi, Sanseia Vintage Legend Italia, Leo, Shiryu e Frank, Frank che però secondo me ha qualche problema, perché vedo un pallino bianco... Sì, buonasera comunque! Ciao Leo, ciao Frank! Comunque l'hai detto giusto! Mi dice dietro le quinte ragazzi! Frank, purtroppo mi sa che hai qualche problema di connessione, perché io ti ho messo in diretta... Mi dici dietro le quinte... Purtroppo invece sei in diretta, ti stanno ascoltando tutti, quindi non dire bestemmioni o parolacce verso la linea che... Va bene, però ti si sente la voce, Frank, se tu parli noi ti sentiamo, eh! Facciamo pronto prova? Buonasera! Sembri Gianfranco Funari! Oh, però è scada! Però è guaiio, è gagnato possibile, non è? È iniziata un'altra puntata, benvenuti alla sesta puntata di Gomorra, che abbiamo come ospite letteralmente Pietro Savastano. Pietro, come stai? Bevi tutto! Non capisco, non posso fidare te! Bellissima situazione! Questo è quello che ha dovuto subire Leo Shiryu quando è entrato nel gruppo Sanseya Vintage Legend Italia, vero? Più o meno! Anche di mezzo! Anche di mezzo! Più o meno! Senti Leo, questa sera... Ho dovuto subito alla grande! Bene! Allora dopo vogliamo sapere tutti i dettagli. Leo, hai preparato un sonetto in rima questa sera? Non proprio un sonetto in rima, diciamo che è più un poema epico stavolta. Quindi è più voglia di qualcosa di buono. Mi potete far vedere? Frank hai i problemi sicuramente di linea, non ti si vedrà, però ti si sente perfettamente. Mo' prova ad abbandonare. Possiamo anche provare, aspetta. Aspetta, ti levo io. Magari facciamo un'entrata a effetto. Secondo me è tutto frutto di una sua diabolica pensata di entrare con effetto presentazione in solitaria. Vero Leo? Pensare di entrare con effetto presentazione in solitaria. Siamo tutti in ritardo questa sera, c'è un casino. Sì, devo dire che anche tu Francesco, io ti vedo a tratti bloccato con l'audio. Eh infatti, mi sa che la connessione è un po' ballerina stasera. Wow! Proviamo questa cosa. Ok, dovrebbe andare meglio adesso. Allora, ci siamo? Voi mi sentite adesso? Siamo tutti collegati? Io ti sento. Siamo tutti in linea? Sì, sì, no, a sentire ci si sente. Sì. Manca Frank. Manca Frank. È proprio andato via ormai. Sembrati morti di cance. Sto riaggiungendo. Però non si vede niente. Ma ascolta, Frangeli, metti tutto da capo. Eh, tra l'altro non sento più. No, Frank, perché se abbandoniamo... No, vabbè, adesso si astesta. Dai, ragazzi, ci dovremmo essere. Ma io sento un ego incredibile. E l'ego dipende dall'audio. Secondo me devi attivare la telecamera, Frank, perché... Ma l'attivate! E' tutto a posto, ragazzi. Va bene, va bene anche solo la voce, Frank. Andiamo avanti, se no... Se rifacciamo tutto da capo è la fine. Abbiamo già fatto la presentazione, la sigla, dai. Andiamo con la voce, non c'è problema, Frank. Tanto conoscono tutti il tuo lato... Il tuo lato posteriore. Ah, scherzo. Io, al tanto nemmeno, è incredibile. Allora, ragazzi... Aggiungi un alone di mistero. Aggiungi un alone di mistero. In realtà sono gemini, ragazzi. Ecco, infatti. Allora, dai, cominciamo, partiamo. Poi vediamo come va. Allora, ragazzi, dove eravamo rimasti? Allora, ragazzi. Al voluto? Sì, adesso ci arriviamo. Volevo innanzitutto, dato che sono quasi sei minuti che stiamo già in diretta, la call in action sta durando anche troppo, io direi di fare così. Innanzitutto, preparatevi. Questa sera vediamo il sesto episodio insieme dei Cavaliere dello Zodiaco. Avete due possibilità per vederlo insieme a noi. O, appena partiamo, lo vedete il giorno dopo e vi organizzate con dei supporti esterni e quindi in post-evisione. Oppure adesso prendete... O accendete Sky o accendete Now perché su Sky e su Now ci sono tutti gli episodi e prendete l'episodio numero 6. Oppure c'è un bellissimo gruppo Telegram che si chiama I Cavalieri dello Zodiaco Blu-ray e lì ci sono tutti gli episodi da scaricare direttamente sul cellulare o anche sul PC. Questo è il primo avvertimento. Intanto facciamo un sunto di quello che abbiamo visto fino adesso. In tanti sono mancati, NGL ci ritorna da oggi, Giovanni è mancato la scorsa puntata, abbiamo visto lo scontro tra Dragone e Pegasus. abbiamo trovato parecchie cose interessanti, specialmente la tecnica che utilizza Pegasus per sconfiggere il Dragone che ancora dobbiamo cercare di capire se è stata volontaria oppure è inciampato e senza volontà ha fatto distruggere lo scudo al Dragone. e poi c'è quella scena quantomeno ridicola da un certo punto di vista, fighissima dall'altro perché c'è tutto lo stadio che aizza Pegasus a dare il colpo sulla schiena, il pugno sulla schiena a Dragone per salvarlo, ma c'è un Pegasus sfinito e lì sono presenti altri cavalieri, ragazzi. Cioè, qualsiasi altro cavaliere poteva dare un cazzottone a Sirio. Cioè, non era una cosa segreta che solo Pegasus sapeva. Cioè, bisognava dare una caromazza sulla schiena. Bisognava dare un colpo della stessa potenza di quella che c'è avuto prima. Quindi, questo che era stato l'ultimo. Quindi, del fulmine di Pegasus. Se andavi tu, ad esempio, Francesco, e non sortiva allo stesso effetto, ci voleva il raccomandante di uno e tu non lo so. Quindi ci voleva un fulmine di Pegasus. Sì. Un colpo della stessa potenza. Ma Frank è scomparso ancora. Già, Frank è scomparso di noi. Allora, tu, che cosa... In diretta con noi la scorsa settimana c'era Leo. Leo, tu hai qualcosa da dire sugli episodi precedenti? E soprattutto il tuo sonetto, lo vogliamo, il tuo poema. Beh, cosa dire sugli episodi precedenti? Siamo praticamente all'inizio della saga, quindi tutto sommato c'è una piccola presentazione dei personaggi adesso. Quindi abbiamo visto un po' i bronzini minori. Abbiamo visto un attimino... Abbiamo cominciato a vedere anche i protagonisti. Quello che sanno fare, quello che non sanno fare. Stasera poi vedremo il seguito, che non voglio anticipare nulla, però sarà abbastanza... Sarà abbastanza, diciamo, abbastanza interessante. Interessante. Come l'altra volta, dicevi... L'altra volta, vabbè, preso dall'ispirazione, visto che sono stato un po' di corsa, perché per motivi di lavoro, purtroppo, sono dovuto entrare più tardi. Preso dall'ispirazione, ho composto, diciamo, un piccolo sonetto. e stasera voglio replicare, però, con un piccolo poema, chiamiamolo così. Ah, ecco... Sì, come Frank! Finalmente vediamo il suo apparecchio. Ciao, Frank! Per l'accesso, dai! Ciao, Frank! Ciao, Frank! Vabbè, c'è come la donna nobile, però c'è. Abbiamo capito che i problemi... Ragazzi, io non vi vedo stasera. Non va la linea. Togli, Frank, togli la telecamera, quella pesa tantissimo, ascoltami, quella pesa tantissimo, togli proprio la telecamera e resta con l'auto. Se così... Frank, sei troppo in ritardo, ti devo rimuovere. Prova a togliere, te lo dico, prova a togliere direttamente il video. Tanto mi senti, stai nella stanza inferiore. Prova a togliere completamente il video e vai solo di audio. Perché pesa tantissimo. Hai problemi di linea stasera. Ti pesa tantissimo il video. Vai solo di audio. Allora, andiamo avanti, ragazzi. Il poema. Vogliamo il poema di Leo. Dunque, non ha titolo. mi dico subito che non ha titolo, io quindi parto direttamente con la recitazione. Come tutte le migliori opere. Ecco, ci vorrebbe anche una piccola base musicale un po' austera. Aspetta, come la vuoi? Austera? Te la metto, te la metto. Sì. La vuoi austera? Allora, vediamo un attimo. Sì, qualcosa di epico. Clemne. Proviamo questa. Questa è mantrica. Dai, questa qua va bene. dai. Ok, dunque. Vai. A te la parola. Allora. combatto contro l'oscurità. Un fantasma di avosto mi perseguita. La sua presenza è in catena il mio spirito come Andromeda condotta a sacrificio. Il suo tocco e il sangue mi fa gelare come la polvere di diamanti. Però dovrò trovare la forza in me. Così come il dragone raggiungerò la pienezza totale e come la cometa di Pegasus mi scaglierò e sconfiggerò finalmente le forze del male. Brividi. Brividi. Dai. Lacrime, lacrime. E senza dei cavalieri. Ce l'abbiamo solo noi. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo solo. Grande Leo. Ce l'abbiamo solo noi. Grandissimo. Ma io a questo punto ti invito ogni puntata e questo sarà una mazzata. Sarà un po' dure. Sarà un po' dure. Mancano ancora 98 episodi devi trovare. Mamma mia. Mamma mia. Scusate un attimo che scusate un attimo che devo rispondere a una cosa. Non ti preoccupare. Allora Giovanni passiamo a te. In questo periodo tu sei mancato perché hai avuto parecchio da fare nel tuo nel tuo canale hai fatto dicci le ultime cose mi pare che avevi un appuntamento molto importante con Siriu V3. Sì. effettivamente sì è stata una recensione registrata in tre perché sono venuti ospiti per il mio canale alcuni e due amici perché effettivamente entrambi fan di questo personaggio quindi ci tenevano ci tenevano a voler registrare con me ma anche io con loro questa recensione. poi vabbè questo è per quanto riguarda il canale poi tra lavoro e altre cose varie ecco non sono riuscito a stare con voi 15 giorni fa e invece stasera ci tenevo a partecipare ancora ad essere qui. come è andata il montaggio di Siriu V3 io sapevo che era molto atteso fra l'altro ma guarda io ti posso dire che ho fatto da spettatore perché quando io ho qualcuno che registra con me le recensioni normalmente io mi occupo del montaggio dei totem perché a me diverte molto di più montare i totem e quindi poi il montaggio proprio del mit lo lascio all'amico di turno quindi è andata abbastanza bene anche perché poi comunque le armature dei cavalieri di bronzo non sono molto complicate fatta eccezione per quelle là di Vine vedo che lì hai il tuo esemplare di Dragone V4 e quindi diciamo che il montaggio è stato abbastanza facile non ci sono stati problemi durante tale fase quindi è veramente un bellissimo prodotto molto molto bello ma per la per la sofisticatezza dell'armatura c'è fatta bene oppure il viso dov'è che eccelle no allora eccelle nel certo nel video infatti lo abbiamo fatto vedere se lo paragoniamo al mit della linea classica si vede che comunque siamo ormai mille anni avanti a quel mit lì quindi eccelle in tutto eccelle nei volti nelle capigliature che hanno dato l'unica cosa che io ho sempre criticato su questo mit è il fatto che i capelli quelli là lunghi che scendono lungo il corpo non sono stati mai divisi quindi la testa resta sempre sempre bloccata perché ovviamente tutta la capigliatura dietro adesso si vede abbiamo Frank ciao ragazzi ciao di nuovo ciao adesso ti sentite benissimo quindi insomma stiamo finendo con Giovanni stiamo finendo con Giovanni tutto tondo ragazzi è un bel prodotto perché poi comunque si possono altre certo poi uno a meno che non voglia fare delle pose super dinamiche eccetera però tutto sommato per delle pose molto easy molto tranquille il prodotto è veramente fatto bene sì 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 e c'era anche Alcor che è arrivato come Midcloth Alcor sì sì è arrivato prima di Dragone è arrivato prima di Dragone sì anche quello ho visto un ottimo prodotto è un po' differente da Mizzar oppure molto simile è differente nell'espressione dei volti e ovviamente nel colore della Codrop quindi del suo plot della sua armatura ma a differenza di Mizzar Alcor è stato sempre il preferito è costato sempre di più anche come Midcloth della linea classica ha avuto sempre un costo maggiore rispetto a Mizzar in effetti questa uscita è stata una uscita limited cosa che mi sembra non sia avvenuto con gli altri asgardiani usciti prima di lui e anche Mizzar anche Alcor era molto atteso come Mizzar come Lemuri che dovrebbe arrivare se la Cosmic ci fa grazia di portarcelo magari ci farebbe anche piacere così si conclude anche proprio la casta dei generali exo esatto io sono rimasto un po' indietro però alcuni stanno lì giù in fondo non te li togliere mai perché per come stanno andando adesso i prezzi collezionare la casta dei generali è un attimino uno spargimento di sangue senza un po' allora vedo che finalmente è riuscito ad arrivare Frank però è senza audio mi sembra senza audio sono qua sono qua sono qua ecco oh hai risolto prima praticamente stavi in ritardo di un minuto e quindi non ci capiamo più niente però io ero rientrato però va bene non vi preoccupate non è successo niente l'importante è risolvere sono un po' come la fenice che rinasce dalle proprie ceneri come vedete no è fresco così guardate qua questo è il mio ultimo cimelio bellissimo avvicinatelo avvicinatelo eh guarda i due dragoni double dragon siamo due tamarroni però tu devi mettere Pegasus Frank ultime è un traditore seriale voi lo sapevate ecco bravo eh sì ti sei perso Francesco Primo tu sapevi che il dragone nero aveva il gemello? no non lo sapevo e dove sta scritto? ecco nel manga perché nell'anima non l'hanno riprovato ah ok no il manga il manga purtroppo non sono molto esperto ho visto solo 150.000 volte i cartoni animati ma non il manga allora Frank invece tu allora abbiamo sentito prima il poema di Leo e tu invece eh mi devi dire un po' come vai il più che altro come è andata la la vostra fiera vi siete se siete fieri della vostra fiera e come è andata se vi siete divertiti vabbè è andata bene come al solito sono accorse tante persone poi c'erano comunque degli ospiti abbastanza noti sia nel mondo del doppiaggio poi c'era vabbè Giorgio Vanni che oltre che aver cantato i Cavalieri del Zodiaco nel 2001 nel 2006 2007 comunque sia ha cantato le canzoni più famose da Dragon Ball quindi negli ultimi decenni anche di più le canzoni più famose comunque un evento bellissimo c'erano diversi stand tantissime persone tanti cosplay peccato come al solito non poter vedere qualche cosplay sui Cavalieri però vabbè purtroppo parliamo di una serie che i ragazzi di oggi magari conoscono ma difficilmente preferiscono cimentarsi a fare i cosplay sui Cavalieri dello Zodiaco poi vabbè mi hanno anche intervistato sul palco per il fatto anche di tutto quello che facciamo anche perché abbiamo scritto i libri e quindi comunque si è parlato un po' del nostro gruppo di tutti i progetti di quello che si è fatto è tanta 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 roba ecco e vi invito a vederla tutti quanti nel nostro canale YouTube e nel nostro gruppo Frank ho visto la tua intervista ci hai anche citato un ringraziamento da parte dello staff dell'Inmen Friends grande Sanseo mi sembra più che doveroso perché noi comunque stiamo con te siamo ospiti fissi ma anche se non lo eravamo comunque il progetto è bello ci piace e quindi se uno può fare se uno può dare una mano ben volentieri ecco no no allora il progetto il progetto comunque merita merita noi partecipiamo partecipiamo sempre con piacere finché 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 possiamo intendi permettendo in che c'è vita se stai allora ragazzi io voglio ricordare un attimo al pubblico sia live che quello che ci sarà poi in post visione sia nel canale l'Inmen Friends sia nel canale Sanseo Vintage Legend Italia ricordatevi che fra poco inizieremo l'episodio numero 6 lo vedremo insieme ovviamente non staremo in silenzio perché finalmente dopo 40 anni di visioni in silenzio sul divano di casa dove mi giravo e c'era solo mia madre che cucinava le cotolette mi dice mamma ma Dragone hai visto che ha fatto eh ma che cacchio ne frega solo questo mi ricordo finalmente li possiamo vedere insieme ho fatto delle presenze inquietanti qui ho delle presenze inquietanti che mi stanno bussando alla porta Giovanni devi dire qualcosa sì sì volevo chiedere a proposito di staff no ogni quanti episodi poi ci inviterai a casa tua a cenare tutti insieme allora un po' come una raccolta punti sulle tessere no quanti pollini dobbiamo l'unico l'unico personaggio dello staff che può avere che può avere parole e dire eh di essere stato nella stanza dello spirito del tempo in presenza è il nostro NGL è bene sì è bene sì fantastica ragazzi è fantastica dovreste vederla con i vostri occhi altrimenti non riuscite non riuscirei a esprimerla a parole però ricordatevi che e ve lo voglio ricordare anche a voi che se avete se passate per Roma fatemi uno squillo perché sarete accolti nella stanza dello spirito del tempo solo là dentro poi nel resto della casa no ma qua dentro potete mostrare ma in realtà basta che ci racci l'indirizzo e ce la vediamo noi non dico organizziamo noi organizziamo un in effetti dai capisci a me allora io volevo ricordare tra la canna di Frank e la stanza dello spirito del tempo è tanta roba eh sì volevo continuare a ricordare di vedere le puntate insieme a noi ci sono tutti gli episodi su Sky e su Nauti V eh e in più c'è un gruppo Telegram che si chiama Il Cavaliere dello Zodiaco Blu-ray dove ci sono tutti i gli episodi scaricabili quindi poi sia in presente sia nel presente che in post-evisione insomma di organizzarvi come cavolo ve pare sia adesso domani ma anche fra un anno se capitate nel canale e dite oh ma questi chi sono che bello vediamolo tutti insieme va bene ragazzi andate a visitare la pagina di Frank e di Leo Sansella Legend Italia ma soprattutto andate sul canale YouTube grande mid crot cronology dove Giovanni vi aspetta a braccia aperte per farvi vedere tutta questa meraviglia adesso hai capito cosa ho fatto allo schermo pezzettino alla volta però pezzettino alla volta uno per video ragazzi allora io penso voglio bonifici qua dai soldi soldi che ammalate ragazzi lo mando subito ecco qua inviato 7000 vanno bene? 40.000 grazie anche a me è arrivato grazie io quanto ti dovevo ancora ragazzi parliamoci chiaro secondo voi come se lo fa uno lo chalet in montagna e la casa al mare ci vogliono i soldini se noi parliamo di 5000 passi iscritti solo del nostro gruppo e fai un euro ciascuno e qua facciamo soldi no? assolutamente d'accordo allora io volevo vedere se siamo tutti pronti se siamo tutti pronti per il conto alla rovescia per iniziare la puntata siamo tutti pronti? pronti? c'è qualche ritardo? ricordate ricordate di togliere la sigla e di partire dal riassuntino perché l'ultima puntata stavamo un po' tutti scordinati io mi sono messo a cavallo nel mentre poi a un certo punto uno era in ritardo vabbè comunque tanto più o meno ci siamo intanto ci saluta la nostra aspetta che vedi ah Francesco ciao Francesco sì sciascia aspetta che lo conosco molto bene anche io ciao ciao Francesco il nostro sciascia Francesco Civitella ciao Franci grazie di essere presente la nostra Alessandra questa sera non c'è c'ha da fa ha detto che c'ha da fa e quindi io direi mi sta a mettere le corna se siamo tutti pronti mi raccomando togliete la sigla partiamo dal riassuntino parto con parto con il countdown partiamo dal 5 4 3 2 1 via benissimo sicuramente mi sono anche ricordato di mettere i sottotitoli giapponesi così vedremo che cosa dicono ecco qui ha subito i colpi dell'avversario senza i colpi dell'armatura sta rischiando di morire e comunque non abbiamo parlato dell'arrivo di Fenix eccolo qua Fenix il guerriero che vide l'inferno questo è il titolo giapponese il guerriero che vide l'inferno vediamo un po' che cosa combina questo Fenix non avevamo parlato sono molto curioso perché non mi ricordo un Tuborg sta al pronto soccorso e legge un fumetto attenzione perché questo mi faceva sempre ridere mi faceva sempre ridere da piccolo ma anche a me con la padella colpo segreto del oh mamma mia ecco erano sempre i stessi doppiatori che facevano la voce da piccoli eh vabbè compianto compianto Paolo Torrisi quanto ci manca è vero va bene il nostro piccolo amico è qui ci siamo divertiti arriva Dragone quanto quanto costa il Dragone senza armatura Giovanni il plane penso che sia a giri intorno ai 50 euro se si trova vedi che è il più figo perché almeno ha un abbigliamento un po' diverso cinese allora questo è stato fantastico perché lui gli ha detto che gli ha portato cibo cinese in realtà nella versione giapponese non diceva assolutamente questa cosa ma perché gli hanno dovuto mettere in bocca il cibo cinese una presenza inquietante la voce di Nettuno è vero è vero manca solo Fenix cioè chi sarà Mare che adesso deve arrivare ecco adesso qua sono così eh sì sento lui sento la voce di Nettuno assolutamente sì sì è vero anch'io la presenza di un nemico nuovo ma scusa il primo perché sono arrivati tutti i quattro puntate fa la presenza di un nemico nuovo si considerano che ci sono pure tutti i Pandora Box già presenti l'unico che manca è quello è quello che dico chi mai potrà essere poi c'è c'è un'altra curiosità che eh i capelli di Fenix sono molto più lunghi di quelli che poi avrà sì vero e all'inizio sì in effetti nel fumetto non erano presentati così grande vai Andromeda mettiti la tua crotta il mitico Andromeda bellissimo che salta e dice Andromeda eh certo bello mi piaceva come si mette l'armatura una danza agilissima che poi che poi stranamente qui Andromeda compare già con i leggings da ballerino esatto sì sembrava un acrobata tra l'altro non ha posizione non è tipo posizioni finali rimane in ebbetito è umile è umile è umile è un unicorno questo è stato il primo vintage che ho avuto tra l'altro come me perché se non altro all'epoca si trovava solo lui o tutti i cavalieri d'oro che ancora non conoscevo perché ancora non era non erano uscite le puntate e quindi in realtà non era proprio così si trovavano comunque no no ovviamente li trovavi soprattutto nelle città maggiori quindi Bari Napoli Roma comunque ragazzi io non ho mai capito perché l'armatura dell'unicorno è l'unica che anziché aveva il cinturino aveva la mutanda aveva lo slip anche quella di Aspides le uniche che avevano le mutande stile manga era pagato da docce e gabbana erano quasi tutti così litigano bellissimo ecco qua poi lui che deve fare sempre lo pavaldo ecco andromituccio ecco qui volendo è l'unica volta in cui è l'unica volta in cui vediamo andromeda spavaldo andromeda coattone esatto forse è giusto in un altro combattimento con un silver forse mi ricordo che un po' di coattaggi ne la tira fuori ma per il resto in realtà in realtà esatto però sempre dopo che era intervenuto il fratello il fratello prima deve caricarsi a pallettoni però in realtà anche in un'altra occasione lo si vede un po' spavaldo se non vi ricordate bene durante la battaglia con Mizar che lì ha un po' un'espressione per dire mo ti sistemo io cristal continua a fare il giudice di X Factor comunque andromeda era meravigliosa all'inizio poi è meravigliosa anche dopo assolutamente d'accordo andromeda andromeda è sempre stato un po' più estrattato però comunque è un cavaliere di tuo rispetto dai io non vedo l'ora che mi arrivi la sua statua della foco perché l'ho presa questa qua bellissima beato te che sei ricco veramente me l'ha prestato i franceschi soldi francesco primo ah ecco ma puoi vedere che sono l'unico che non ha preso soldi da francesco tra l'altro vi posso dire una cosa unicorno è al suo secondo incontro sì sì perché il primo era con ban lionette ban credo che rimanga così la cosa rimanga l'unico che fa due incontri alla guerra galattica eh sì perché il tabellone era da 10 è l'unico è l'unico è l'unico quindi ha diritto alla sacra armatura proprio di diritto ha fatto più combattimento alla sacra armatura di latta ha bisogno eh infatti beh comunque adesso vediamo la catena vediamo la catena che praticamente lo sta distruggendo perché si è disposto a difesa quindi difesa impenetrabile comunque voi non sapete che gli hanno dato il primo consolazione a unicorno gli hanno dato l'armatura che quella è falsa perché quella che vediamo nella guerra galattica sarà un fake quindi gli hanno regalato quella capito ebbene nono dagli il contentino dai quel poverino ha dovuto soffrire da bambino quindi è appunto il nemico cioè è già dato per nemico cioè non ha detto niente questo eh però hanno sentito un cosmo costile costile esatto perché la catena è indicato l'italiano lo mettero molto bene perché sapevano e non sapevano chi era cioè non sapevano come far arrivare a Fenix perché doveva essere Iki di Fenix hai capito ma infatti il problema è questo nell'anime i miei personaggi sono presentati tutti diversi all'inizio no c'era anche per esempio quell'aneddoto che abbiamo detto l'altra volta di Crystal che lui in realtà era stato mandato dal santuario per teoricamente per uccidere i cavalieri ok stiamo sottovalutando cioè praticamente unicorno qui è nei panni di Pegasus cioè stava facendo dei ragionamenti come se se dovesse andare avanti anche nelle puntate come personaggio ma in effetti secondo me lui era un po' l'equivalente di Pegasus del gruppo dei bronzini minori un po' per l'arman perché comunque si viano anche un po' vero infatti anche in Omega anche in Omega se non ricordo male c'era il cavallino che sembrava comunque Pegasus diciamo che unicorno molto probabilmente volevano anche farlo andare avanti ma doveva fare comunque un po' il Pegasus 2.0 ecco diciamo che in Los Canva viene un po' recuperato l'unicorno infatti stavo per me anche se sì sì probabilmente sì però insomma provano a rimetterlo dentro comunque adesso comunque adesso sta per poveraccio vorrebbe scagliare il suo corpo però e qui l'ha massacrato proprio ragazzi ma male 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 la catena di Androma è implacabile è implacabile come si vede e qui c'è la scena che le catene si raddoppiano di punte e dice Irky guarda sì da bambino non la capivo non mi andava giù proprio dico quante solte punte è fantastico intanto la signorina si ubriaca attenzione perché succede quello che voi morite io mi faccio il mio trinchino nel frattempo diciamo questa intanto ciao la scrittura in greco è bellissima la catena si sta muovendo la catena si sta muovendo ma non faceva prima scrivere ma non faceva prima scrivere Fenix tutto non faceva non faceva prima fare una freccia verso Fenix no poteva dire molto cacchiamari cosa ha scritto Axia 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 pausa abbiamo tempo di andare al bagno ma in realtà la catena doveva già dare le scosse adesso quando l'ha presa in mano Unicorno non dopo ah già adesso le prende in mano vero sì esatto comunque ha scritto Axia e Axia ha un significato particolare adesso lo spiega eh sì uno spoilerare spoiler si vuol dire la prima parola greca che ho imparato in vita mia sono solo passati i trentani cosa vuoi che sia esatto ma perché ma perché la catena aveva vita propria e una mentalità propria perché era un meccanismo di difesa Andromeda è concentrato soprattutto sulla difesa madonna comunque un ricordo e quando ha fatto cacchiamare beh beh quantomeno è tenace vabbè lui però l'aveva avvertito eh sì non può dire che non l'aveva avvertito esatto ma come fai a credere uno con l'armatura tutta rosa scusa vabbè dai quindi lui ha il cavo della terra dietro per la massa terra certo ecco adesso fa la punta eh Limba come dicevi tu eh sì perché ha detto tanto questi mi levano poi la scritta a sto punto faccio una freccia vediamo se c'è che il guerriero questi sono delegno eh il pubblico puntinato mi pare che vi avrei visto Don Chuck e Castoro perché non avevano pagato non hanno ancora decifrato eh non hanno ancora decifrato la parola però e fanno l'unico che era poco il traduttore fra l'altro ragazzi non c'era fra l'altro se ascoltate il rumore della catena sono praticamente lo stesso rumore dei cristalli di ghiaccio della polvere di diamanti eh più o meno c'era crisi c'era crisi già lei in passiglie non sente niente non sente cosmo non sente lei c'ha il gocciolone sì ma poi cavolo è infinita sta catena non finisce mai si autorigenera è come il campo di Oli e Benji esatto è vero no però il campo di Oli e Benji sono riusciti a calcolare quanto era lungo in base alla curvatura in base alla curvatura sì 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 hanno stimato una ventina di chilometri bello 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 che è un fenomeno che è riuscito a fare questa roba hanno creato parecchia ansia mi piace mi piace mi piace ecco qua che bravi vabbè comunque ma poi Fenix per quanto forte poi iniziano tutti quanti il gioco della corda che la catena gira e loro saltano comunque ragazzi scusate ma questa scena crea un'ansia perfetta cioè nel senso sono stati veramente bravi io non ci ho dormito la notte bellissimi questi disegni da premio Nobel sì alcuni sono delle cose atroci vabbè purtroppo vi ripeto se ci fosse anche mia sorella in diretta vi farebbe vi farebbe la diretta solo sui disegni eh hanno capito poi che significava axia ci sono arrivati no perché hanno usato il google traduttore hai capito esatto è arrivato hanno preso segnale quello con la t-shirt quello con la canota c'è il lupo che sta in canota con la canota sì eccolo qua finalmente finalmente riusciamo a vedere il nemico che si fa lese sono stati bravissimi hanno sorpassato anche il fatto che i disegni non siano non siano belli la sceneggiatura è bellissima a livello anche la fotografia anche la fotografia guarda guarda che bello l'ambiente di tensione che hanno creato non sto scherzando sì sì è vero sono minuti e minuti ancora non è comparso ragazzi per un cartone animato dell'epoca fecero comunque assolutamente sì e poi in genere questa inizio produzione hanno meno magari meno disponibilità no comunque anche perché loro stessi non sapevano più o meno come andare avanti quindi eccolo è arrivato in bordo ho sempre voluto sapere come ha fatto a mettersi nel pandorato là dentro stava così ma soprattutto perché esce il cosmo dorato e come faceva a tirare la catena a sé cioè per quanto uno sia forte però Giovanni stava così stava eh ho capito è un'angrovata praticamente è un contorsionista poi qui per la prima poi qui per la prima è unica volta si vede si vedono gli occhiali gli occhiali da sole perché li avevano spenti qua fra l'altro esatto iattamen a me l'acce gli occhi ha sempre fatto morire negli anime ha dei capelli come come Diego Abba D'Antuono Lupo non sa che sta per fare una brutta fine tutti l'hanno riconosciuto tra nessuno praticamente il decimo cavaliere è arrivato perché Shun secondo me era incredulo non voleva credere che fosse davvero il fratello si è scoperto che quegli occhialetti li ha prodotti la Ray-Ban si a me quelle stelline che fanno agli occhi mi hanno sempre fatto morire date anche un'occhiata a quello che scrive il nostro Francesco Civitella si stavo leggendo dovevano vincere tutti gli special five è un modo per fare una selezione naturale per far vedere quali sono tutti i personaggi principali bello questo disegno è bellissimo ragazzi questo è molto bello si ora il cosmo è bianco esatto però è bella la scena ecco chi era il dio che pare dietro sono divinità della guerra buddista sostanzialmente era una rappresentazione di un'entità malefica si esatto per l'orientale è subito percepibile per noi magari è un po' più complicata e comunque sia da bambini tutti abbiamo amato questa scena si si ma scusate anche se dico la verità io un po' rosicavo perché speravo che andasse avanti da bambino mi ricordo volevo che andasse avanti il torneo di come arriva questo è vero è una sensazione che ho anche io avete presente i disturbatori che vanno dietro i giornalisti ecco non ce la faccio ragazzi non so da voi non l'aveva ancora riconosciuto si fa caldissimo io stavolta mi sono mi sono messo il ventilatore non l'aveva ancora riconosciuto non l'aveva ancora riconosciuto eh ho detto l'aveva riconosciuto tutti tranne lui tranne te tranne te tranne te comunque Frank non so non so da te ma qua io mi sto sciogliendo io ho aperto tutte le finestre che sono anche tante per fortuna e poi qui la sera fa freschetto quindi si sta abbastanza bene eh per forza perché tu sei vicino alla collina eh io qua sto in pianura un momento un momento lacrima queste che sembrano delle lacrime che scorrono sulla catena sono belle dai si fra l'altro invece a me sembrava l'ultimo colpo direi è vero si andro mi duccio ma perché lo stanno portando come se fosse stato arrestato perché più o meno e mo ti faccio il sedere e mo te più o meno Tony Fuochi ti aspettiamo Tony è infatti vogliamo sentire la voce vogliamo sentire la voce del mitico Tony ragazzi comunque Fenix è veramente una figata subito io in bocca con le ali della Fenice che cosa fa? lo stesso Tony Fuochi ammetterà che il personaggio che lui doppiava quindi Fenix non è che gli piacesse molto della serie questo qua prima cattivo poi diventa buono lo dirà lui stesso in un'intervista quindi disse ma ecco qua non lo convinceva molto ben trovato fratellino ben trovato fratellino eccolo qua e adesso ti lascio ti lascio sei anni andare a farti i cavoli tu e torni così perché Sirio ha detto che ecco c'ha l'influenza del male ma che ne sa ma lui in qualche modo l'ha capito da spiegare la propria la propria puntata sì ma in giapponese perché Sirio ha questo senso che no ma ma ragazzi siamo completamente deviati perché in giapponese gli ha detto solamente che non che non lo riconosce punto non ha detto le cose del male perché nel doppiaggio dovevano far vedere che lui era il cattivo e gli altri erano i buoni quello era l'obiettivo ecco e che Sirio era il più saggio e quindi magari ci mettono ragazzi ragazzi in giapponese gli ha detto Andromeda vedo che sei rimasto un frignone mi dispiace vedere che non si è affatto cambiato mi piacerebbe sapere frignone in giapponese c'è ancora come una femminuccia qua non l'ho mai sopportato questo sì è vero che bella scappetta finito i deboli non hanno il diritto di combattere per la sacra armatura frase storica un bel 42 con tutto quello che poteva fare il calcio va bene dall'alto un bel atterraggio che marca erano le scarpe voglio saperlo allora io vi dico una cosa facciamo un punto della situazione per uno qualcosa di un minuto a testa perché poi abbiamo un'altra live fra cinque minuti allora io dico questo secondo me un episodio dal punto di vista della tensione dell'arrivo di Fenix sensazionale cioè è un episodio dedicato dall'inizio alla fine a questa a questo oscuro figuro che arriverà minuto per minuto è bellissimo Giovanni ma in effetti sì perché già l'importanza che hanno voluto dare a Fenix già da questo episodio si è visto che da quando è apparso non ha proferito parola fino a quando morto negli ultimi istanti quindi c'è un cavaliere capito fiero molto molto forte di sé quindi già gli avevano dato qui un livello superiore rispetto agli altri che stavano qui quindi anche a me Fenix è sempre molto piaciuto come personaggio Angie sì allora questa è la presentazione dell'ultimo dei cinque abbiamo visto finora essenzialmente questo cioè la presentazione delle abilità delle capacità dei nostri quelli che saranno poi i protagonisti e con particolare focus sul combattimento chiaramente tra Pegasus e il dragone qui arriva Fenix che è un personaggio devastante perché chiaramente ha un passato diverso dagli altri e lo manifesta tutto da qui in poi comincia se vogliamo la vera e propria trama action adesso cominceranno a spostarsi da questo sì per fortuna adesso si entra nel vivo e le storie più avvincenti esatto per il resto Lim ha detto tutto perché la puntata è esattamente quella è tensione crescente è pathos è concentrato sulla scesa sull'arrivo del personaggio è resa molto bene insomma consideriamo sempre che noi lo ripetiamo dopo milioni di volte pensa alla prima volta in cui l'hai visto no insomma trasmette bene l'emozione dai Frank fai tu vabbè comunque Fenix sarà un po' il divo della situazione cioè lui a parte salvare Andromeda ma farà sempre un po' la parte del divo è un personaggio che come ha detto lo stesso Tony Focchi prima era cattivo poi diventa un po' come Gemini anzi Canon soprattutto però comunque è un personaggio straordinario anche se io da piccolo ma insomma preferivo ben altri però è chiaro poi rivalutandolo molto in età adulta sicuramente è un cavaliere fico cool Leo molto cool che dire diciamo io il personaggio di Fenix l'ho sempre trovato un po' ambiguo nel senso che comunque come ha detto anche Frank vabbè prima era buono prima era cattivo poi è diventato buono poi comunque fa sempre un po' è un po' il lupo solitario diciamo cioè lui non si è mai realmente integrato nel gruppo ma è sempre rimasto in disparte apparendo e scomparendo alla buona questo vabbè lo farà in tutta in tutta quanta la saga da adesso fino anche alla saga di Hades però vabbè non voglio spoilerare nulla alla fine della sonata comunque c'è fa un po' la parte dell'eroe solitario che non vuole non saprei non saprei cos'altro dire comunque vabbè diciamo che già adesso manifesta una forza non indifferente tanti vabbè dicono che comunque alla fine della sonata tra i cinque comunque dovrebbe essere lui più forte anche se vabbè comunque poi sappiamo che più forte è Pegasus perché è protagonista dai oltre dopo Sirio bravo perché era comandato perché era comandato comunque posso dire un'ultima cosa nonostante Phoenix sia tra i preferiti dalla massa sia tra maschietti che femminucce di qualsiasi età in realtà uno dei motivi per il quale i cavalieri dopo ebbero un grande declino piano piano ma comunque un grande declino fu uno dei motivi uno dei tanti motivi proprio il fatto che Phoenix faceva il divo e salvava Andromeda Pegasus che indossava sempre l'armatura del Sagittario Atena che si faceva rapire e pestare quello che è i cavalieri che dovevano sempre salvarla e quindi il motivo era soprattutto uno dei tanti era un ripetersi delle situazioni va bene questo dipende e ovviamente dal la grumata che ha voluto fare questo anche perché nel sistema di armature divine il manga succederà molto dopo riguarda Phoenix indubbiamente il cavaliere è più forte tra i cinque anche se poi a livello di potere lui stesso dice che poi il fratello è proprio il più forte per la regulosa eccetera però effettivamente sì sei è forte perché il protagonista deve vincere sempre lui ovviamente ma lui però Phoenix compare poco però compare con quei personaggi che sono veramente tra i più forti tipo con Virgo della sesta casa tipo con Alcor Mime con Mime tipo con Orion c'è quel combattimento bellissimo contro Orion insomma è ovvio che lui è più forte proprio in alcuni episodi molto più avanti scusami se ti interrompo lo stesso Phoenix prima tornerà a essere amico con Pegasus e Sochi poi dopo all'improvviso decide di fare il lupo solitario cioè questa scena non è mai tanto spiegata bene ma secondo me non è che decide di fare il lupo solitario secondo me non è che decide di fare il lupo solitario è che dovevano tenerlo fuori altrimenti Pegasus se ne avrebbe risentito proprio lui come figura di protagonista sicuramente sicuramente questo è il motivo principale però dico come scena non ha senso perché lui si sentiva in mezzo dei ragazzini stupidotti e lui si sentiva il grande no in quel frangente in effetti è anche il più grande d'età questo nel manga è sempre un po' più chiaro e sai come sono molto piccoli di età però se poi sono molto piccoli di età nel manga effettivamente quell'anno o due in più incide poi no? in dicembre rispetto al tredicenne perché Fenix era più distinto quindi mentre gli altri dovevano organizzarsi la tattica eccetera lui andava diritto al sodo lui era risoluto e andava diritto al sodo indubbiamente però al protagonista Pegasus si può dire che aveva appunto una tenacia una sede cosa possiamo dire in Italia Pegasus aveva tredici anni questo stava ancora a cambiare il fanno ma infatti questa è una cosa importante perché effettivamente nel manga è il più grande tra tutti era quello più grande se non sbaglio più grande assolutamente 14 o 15 adesso non ricordo precisamente più o meno anche Sirio doveva essere abbastanza grandicello avevano la stessa età mi pare avevano la stessa età mi pare tutti gli altri tredici anni se non ricordo male non vorrei che qualcuno poi dopo ragazzi tra i tredici e i quindici io devo chiudere perché mi stanno aspettando in un'altra live su Jurassic World Dominion e allora io vi ringrazio a tutti fra due settimane l'episodio numero sette vediamo che cosa fa Fenix con i capelli di Diego Abba D'Antuono negli anni Ottavio ciao ragazzi ciao ragazzi grazie a tutti grazie ancora Lim ciao un abbraccio 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 ciao a tutti ciao